Devo dire che noi sicuramente abbiamo preparato un certo tipo di partita, poi purtroppo non siamo riusciti a giocarla. Juve è partito forte, ci ha punito su un nostro errore in uscita, dopo quando siamo rimasti in 10 è diventato molto molto difficile. Juve anche in 11 ha fatto meglio di noi, perciò non metto in dubbio vittoria da Juve perché è meritatissima. Anche se su 0-0 comunque anche noi abbiamo avuto due occasioni con gli Aic da 16 metri che di solito non sbaglia e Iago Falchi. Perciò dopo espulsione non c'è stata più partita e ci dispiace, ci dispiace a me, ci dispiace ai miei giocatori, mi dispiace per i tifosi e li chiedo scusa. È dura da accettare ma va accettato, peggio di una sconfitta però ci sarebbe solo di abbattersi, perciò dobbiamo togliersi in fretta questo derby dalla testa e pensare a domenica a Verona. Abbiamo una settimana di tempo per preparare bene e cercando di vincerla e se la vinciamo comunque la nostra classifica rimane sempre molto buona. Importante non perdere fiducia ma non la perderemo, questo è sicuro. Grazie a tutti.